Le luci si sono accese sul circuito cittadino di Marina Bay, tutto pronto per il Gran Premio di Singapore. Ecco le posizioni di partenza per la gara di oggi. Grazie a tutti. 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 Ricorda di rientrare ai box a questo giro. Grazie a tutti. Stai correndo con le gomme leggermente consumate, dovrebbero avere ancora un'aderenza sufficiente, ma fa tensione e presto inizierà a diminuire. La strategia di gara è completa, adesso devi finire la corsa con queste gomme. Stai correndo con le gomme leggermente consumate, dovrebbero avere ancora un'aderenza sufficiente. Stai correndo con le gomme leggermente consumate, dovrebbero avere ancora un'aderenza sufficiente, dovrebbero avere ancora un'aderenza sufficiente. Hai usato più o meno il 90% di carbonante, quindi ne hai ancora il 60%. Stai correndo con le gomme leggermente consumate, dovrebbero avere ancora un'aderenza sufficiente. Stai correndo con le gomme leggermente consumate, dovrebbero avere ancora un'aderenza sufficiente. Stai correndo con le gomme leggermente consumate, dovrebbero avere ancora un'aderenza sufficiente. Stai correndo con le gomme leggermente consumate, dovrebbero avere ancora un'aderenza sufficiente. Grazie a tutti. 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 Se continui a tagliare le curve riceverai una penalità dai commissari. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.